Ciao ragazzi, continua la presentazione dei nostri prodotti che stiamo ideando, progettando e costruendo per i pescatori professionisti. GeoBSRL è una famiglia che da oltre 40 anni serve il mondo dei pescatori, il mondo navale, e che nell'ultimo periodo si è specializzata nella ideazione, progettazione e costruzione di apparecchi luminotecnici professionali per i pescatori, per efficientare ovviamente le vostre imbarcazioni e cercare un attimino di innovare quello che è l'attuale modo di lavorare appunto di voi pescatori professionisti. Oggi vi presentiamo il nostro faro di immersione da 200 Watt che noi abbiamo chiamato Leonardo Cubo. Eccolo qua, un progetto altamente innovativo, completamente in acciaio inox, può essere utilizzato solo ad immersione. Abbiamo quattro golfari che servono appunto per montarci una catena o una cima per l'immersione, il tutto con un cavo siliconico che viene collegato alla nostra centralina, anch'essa costruita in materiale marino, quindi alluminio alla carpenteria e viti in acciaio inox, con uno stag a batteria, un dimmer che serve per la regolazione di luminosità e due interruttori che servono per inserire o disinserire i due circuiti del quale il faro è composto. Nella parte di sotto della centralina ci sono un connettore ed un PG, il P68, con il cavo di alimentazione che esce e che deve essere collegato all'embarcazioni. Tutto il sistema deve essere alimentato a 24V, in questo caso abbiamo due batterie a 12V, come vedete anche abbastanza piccole, collegate in serie, quindi erodano una 24V. Andiamo a collegare il nostro cavo alle due batterie. Ecco, collegate a 24V, mettiamo da parte un attimino le batterie perché per la dimostrazione servono a poco. Questa è la nostra lampada, questa è la nostra centralina. Andiamo ad attaccare il nostro stack a batterie. Ecco, ora praticamente abbiamo acceso la nostra lampada. Come vedete può essere utilizzata in qualsiasi modo. E andiamo a regolare la luminosità. Vedete che la luce comunque viene espansa a 360 gradi e può essere questa lampada emersa fino a 100 minuti a 18V. Ovviamente tutto è utilizzato e anche in un'illusione. Si può spegnere la prima, lasciando ovviamente l'attitudine accesa e il secondo. Vi ricordo che il LED è uno strumento importante e sarà sempre più importante nei messi a divenire perché efficienta energeticamente le vostre imbarcazioni, oltre al fatto che eroda molta più potenza rispetto alle lampade primarie. Ha una lunga durata, noi questo prodotto lo garantiamo fino a 5 anni dalla data di acquisto e ovviamente siamo un'azienda che è pronta a intervenire in qualsiasi momento quando ci dovesse essere qualche tipo di problema, anche perché noi appunto facciamo questo di mestiere. Quindi vi aspetto su tutti i nostri canali social, Facebook GeoSRL, Instagram GeoSRL, anche YouTube GeoSRL, oltre al nostro sito internet www.nauticageba.it Ciao e alla prossima! Ciao!